Questa è la prima tenda che l'esercito ha montato sul territorio calabrese per la raccolta dei tamponi. L'operazione si chiama Operazione IGEA, il protocollo l'abbiamo siglato tre settimane fa con il colonnello Zizza che è il responsabile di questa operazione sul nostro territorio. E' la prima di altre quattro postazioni, quindi sono cinque postazioni in tutto, che saranno montate una per ogni provincia della nostra regione e che saranno di supporto alle ASP per la raccolta dei tamponi da fare sul nostro territorio. Io ringrazio il Ministero della Difesa che ci ha dato questa opportunità. Ringrazio veramente il colonnello Zizza che con tempi celerissimi sta non solo montando le postazioni ma si è reso disponibile in tutte le operazioni che riguardano la collaborazione tra esercito Regione e Calabria sul nostro territorio.